Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Gear City, un gioco che mi avete consigliato in una delle precedenti live e che il grandissimo Evil 2205 mi ha regalato, un pensiero davvero gentile per questo voglio ringraziarlo. Non è sicuramente un gioco per tutti ed è un gioco che mi ha sorpreso perché è in italiano anche se su Steam non c'è scritto per quanto la traduzione non è completa ma è al 97,5% quindi direi accettabile. C'è un sintetizzatore vocale adesso che ci spiegherà l'inizio del gioco, lo scopo di questo video è mostrarvi, intrigarvi magari a questo gioco e magari poi portarlo in live prossimamente. Iniziamo il tutorial principale. Questo è chiaramente un sintetizzatore vocale e quindi andremo a sentire un attimino quello che c'è da dire. Si simulerà tutto il sistema di economia, di gestione nel mondo dell'automobile. Non è sicuramente un gioco semplicissimo da quello che ho capito ed è un gioco dove dovremo apparendere tutto nel giro di qualche ora. Quindi andiamo avanti. La finestra del tutorial è mobile, puoi spostarla. Perfetto. Andiamo a provare e vediamo un attimino in che cosa consiste questo titolo. Inizia una nuova partita. Iniziamo una nuova partita. Anno di partenza 1900 quindi iniziamo proprio dagli inizi inizi. Ok. Perché vedete gli anni arrivano fino al 2020 quindi si inizia. Si va bene. Si inizia. Vabbè mappe, possiamo scegliere le varie mappe. Vabbè sembra abbastanza... Ok. Perfetto. Iniziamo andiamo a vedere come funziona questo titolo. In base alla mappa che hai scelto ci saranno punti e territori di terra sulla mappa qui sotto. No, non faccio la riproduzione perché non voglio più la voce. In base alla mappa che hai scelto ci saranno punti e territori di terra sulla mappa qui sotto. Se si tratta di una mappa basata sulla città va bene. Ok. Andiamo avanti. E vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare. Allora, selezioniamo la città del nostro quartiere generale. Voglio farla lì. Bologna, Genova, Milano, Roma o Napoli. Oppure anche qua sotto sarà Palermo io immagino. Sì, infatti. Facciamola a Milano dai. Facciamo Milano. Siamo patriotici del nord. Qua ci dà la popolazione 503.000. Siamo nel 1915 postare. Però capita 145 dollari. Crescita stimata. Insomma risorse. Stato stabile. Tassa 31%. Perfetto. Facciamo il mio nome. Io sono Indy. E questa la chiameremo la Indy Motors. Il simbolino sarà sicuramente molto interessante e avrà un simbolo. non lo so. Facciamo questo. Dai che sembra un atomo. Il nostro complesso sistema di ari chiede una grande potenza di elaborazione. Per turni più veloci raccomandiamo un piccolo numero di A. 300 compagnie. Facciamo 100 compagnie. Dai. Concorrenti. Crescita nel mondo. Perfetto. L'ufficio è il fulcro principale del gioco. Qui troverai la maggior parte dei dati necessari per gestire la tua azienda. Questa stanza funge anche da porta di ingresso per altre stanze del gioco. Le altre stanze contengono dati più approfonditi di quelli presenti in ufficio. Oltre a strumenti e funzionalità aggiuntive. Per accedere a queste stanze clicca sugli oggetti che si illuminano. Ok. Dato che gestisci un produttore di automobili dovresti progettare un veicolo. Per progettare i veicoli componenti dobbiamo andare al dipartimento di ricerca e sviluppo. R&S. Fai clic sulla porta evidenziata in giallo per visualizzare il menu della porta. Perfetto. E' questo qua. La ricerca e sviluppo. Questo è il nostro ufficio. Vedete possiamo passare su vari oggetti. Gare automobilistiche. Showroom. E noi facciamo ricerca e sviluppo. Qua dice che ci vuole un sacco di tempo per elaborare ma lo sta facendo anche piuttosto velocemente. Benvenuti nel dipartimento di ricerca e sviluppo. In questa stanza puoi progettare veicoli e componenti. Contiene anche il sistema dove poter modificare i componenti e renderli inattivi nonché sistemi di outsourcing. Ogni veicolo in grassetti richiede tre componenti. Chassis, motore e cambio. Per progettare un veicolo questi componenti devono poter lavorare insieme. Ad esempio le dimensioni del motore devono essere inferiori al massimo supportato dallo chassis, ovvio. In caso contrario i componenti non funzioneranno insieme. Per progettare i componenti dobbiamo fare clic sul pulsante rosso progetto nel menu in alto. Perfetto. Quindi iniziamo e progettiamo la nostra prima automobile. Il primo componente che dovremmo creare è lo chassis. Parlando in termini profani, lo chassis è il componente e la carrozzeria, insomma la struttura principale. Collega tutti gli altri componenti principali del veicolo su una piattaforma. Lo chassis non è neanche la carrozzeria in realtà. Lo chassis ha un ruolo importante nelle caratteristiche di manovrabilità e fisiche del veicolo. Chissà che auto salteranno fuori nel 1900. Nel gioco uno chassis ha quattro componenti. I progetti di lo chassis devono concentrarsi sulla loro applicazione. Ad esempio lo chassis di un furgone dovrebbe concentrarsi sulla resistenza e sulla durata. Perfetto. Iniziamo dallo chassis. Gear City implementa due modi di progettare i componenti. Avanzato, più dettagliato, assistito, meno dettagliato. Il progettista avanzato permette di mettere appunto piccoli dettagli. E' veramente interessante perché ho già visto anche altri video dove si può fare veramente il mondo. Noi facciamo la modalità assistita. Scegliamo la dimensione. Lui progetta per noi. Quindi possiamo fare dimensione grande. Complessità del progetto lo facciamo così. Prezzo unitario. Facciamo una cosa abbastanza mediamente costosa. Tutti i campi evidenziati. Di giallo ti permette regolare. Ok. Pulsante evidenziati in blu consente di modificare i componenti dello chassis. Quindi praticamente possiamo andare a scegliere un frame, un telaio. Vediamo. In questo caso è berlina. Non possiamo fare altro. Seleziono il telaio. Ah beh però abbiamo anche questo. Questo. Berlina. Eh mannaggia non so neanch'io cosa fare. Leaf spring. No no. Questo è un'altra. Sono le sospensioni. Quindi progetta per il motore selezionato. Seleziona motore. Ehi capo. Non abbiamo progettato col motore. Ok. Quindi dobbiamo andare a scegliere questo. Seleziono il telaio. La trasmissione di un certo tipo. Scarsa attrazione. Cattiva distribuzione. No. Direi che facciamo questa. Poi abbiamo le sospensioni. Mi piacciono di più questi. Mi sembrano anche se in realtà questo progetto non dovrebbe dare problemi ai nostri ingegneri. Gli altri invece sono no vabbè. Insufficiente capacità di presa. Potrebbe comportare problemi in sicurezza. Lo scarsa assorbimento e le sollecettazioni. Inefficienti. Facciamo questo dai. E poi ci prendiamo anche il. Ah le posteriori. Ok. Prendiamo queste. Slide in pilla. Le prendiamo uguali dai. Fatto tutto. Non abbiamo nessun motore. Vediamo qua ci dà dettagli dello chassis. I dettagli delle nostre macchine. Il nome dello chassis. Lo chiamiamo Ind 1900. Indy. Indy 1900. Perfetto. Progettalo. Ora devi progettare un motore. La procedura è la stessa dello chassis. Sarà interessante vedere come crearlo manualmente. Uno chassis però. Vabbè. Progetta. In questo caso progettiamo un motore. Lo facciamo assistito. Selezioniamo lo chassis che abbiamo. Che è l'Indy 1900 che abbiamo fatto. E poi vediamo qua un attimino il motore. Dimensione. Vedete che ci cambiano anche i centimetri. I millimetri scusate. Il costo del materiale. Il costo del progetto. Lo lasciamo così. Gli diamo più potenza. Lo facciamo. Vedete anche gli horsepower. I cavalli e i giri. Possono arrivare fino a 20.000 giri. No. 2.000. 2.000. Siamo inizio a 900. No. 2 cavalli. No. Dai. Facciamolo almeno da 7 cavalli. 8 cavalli. Dai. Prezzo unitario lo facciamo abbastanza costoso. Perché voglio fare un'auto abbastanza costosa. Il. Aumenta praticamente la coppia. E aumenta anche il costo. In questo caso. Seleziono lo chassis. Qua abbiamo diverse cose che si possono cambiare. Il tipo di. La disposizione. Elettrica. Sì. Faccio riproduzione in serie. Perfetto. Seleziono la disposizione. Qua abbiamo i cilindri. Due cilindri. Quattro cilindri. sei cilindri. Io farei una quattro cilindri. Gasolio o benzina. La facciamo a gasolio. Questo è a tempi. Due tempi. A valvole. T-valve. F-valve. Sicuramente uno di voi lo saprà. Comunque facciamo questo tipo di valvole. Seleziono lo chassis che è sempre quello. E poi lo costruiamo. L'ultimo componente che devi progettare è il cambio. Andiamo a progettare anche il cambio. Sempre assistito. Il cambio. Focus sulla coppia. Ok. La complessità la facciamo a media. Perché voglio fare un'auto comunque costosa ma non da eccessivamente da ricchi. Seleziona il motore. Il motore abbiamo il modello E1. Non gli ho dato un nome purtroppo. Possiamo scegliere il tipo. Non sincronizzato manualmente. Questo non so cosa sia. Tre velocità. Due velocità. Tre marce dai. Quattro. Quattro perché è una cosa di lusso. Overdrive. Retromarcia. Translate. Bello. Dai. Mi piace. Progettalo. Ora che hai creato i tre componenti devi tornare in ufficio e terminare il turno. Ci vorranno alcuni mesi prima che il team di ingegneri finisca nei progetti. Ti dirò di più quando torneremo in ufficio. Torniamo in ufficio. Eccoli qua. Qua in alto potete vedere l'ufficio. La progettazione di nuove componenti richiede molto tempo nella vita reale. Lo stesso vale per il gioco. Devono trascorrere alcuni mesi prima che i componenti vengano sviluppati. Quanto dura lo sviluppo? Il pennello laterale elenca i tempi di progettazione. Eccoli qua. Passando qua o cliccando sull'orologio ci mostra i tempi. Sette mesi, otto mesi per lo chassis e tutto il resto. Va bene. Un messaggio abbiamo. Richiesti nuovi contatti. Abbiamo appena saputo... E' tradotto anche bene, devo dire. Quindi in inglese sarebbe stato un po' più ostico da giocare. Abbiamo appena saputo che ci sono progetti disponibili per cui possiamo presentare delle offerte. Esercito dell'azione francese, progetto Johnson, Atler, nuovi contatti di cui non possiamo fare alcuna offerta, servizio di noleggio Milwaukee e va bene. L'elenco dovrebbe mostrare tre. Ok. Progettazione delle componenti richiede molto tempo sul lato destro. Allora, sul lato evidenzato c'è il pennello laterale. Sposta il mouse sul pennello laterale per continuare il tutorial. Stai sicuro di terminare il tuo turno? Non mi esiste a simulare uno. Simuliamo. I progetti non sono stati ancora completati. Allora simuliamo per altri sette mesi. Si, sta elaborando e comunque sta macinando abbastanza come calcolo. Ok. Controllo se l'ingegnere ha terminato il progetto nel pannello laterale. Si direi di sì. Ok. Torniamo alla ricerca e sviluppo. Sto caricando. Perfetto. Adesso è tempo di sviluppare il tuo primo veicolo. La progettazione è simile alla progettazione dei componenti ma è necessario progettare anche la carrozzeria. Ok. Figo. Molto figo. progetta veicolo. A questo punto la facciamo sempre assistita. Facciamo la complessità del progetto. Facciamola così. Complesso e prezzo unitario. Complesso. Progetta carrozzeria. Ci sono due modi preimpostati o personalizzati. Io faccio predisegnati. Ah. Molto interessante. Scegliamo quale auto fare. La nostra auto deve essere bella. Abbiamo detto che la vogliamo fare abbastanza di lusso. Mi sembrano tutte un po' buttate lì così. Però questa potrebbe essere un'auto arancione. Una bella auto di lusso. Seleziono. Perché poi se no si possono fare anche per quanto loro. Il telaio è l'Indy 1900. Scusate. Flat. Il motore è quello. E il nostro cambio è il TK1H. A cui non abbiamo dato un nome. Progettalo. Il veicolo è pronto per lo sviluppo. Sarà necessario saltare alcuni mesi. Perfetto. È necessario saltare 12 turni per far sì che lo sviluppo sia finito. Infatti ci dà 12 mesi. Perfetto. Allora saltiamo 12 mesi. E attendiamo che tutto venga sviluppato secondo i nostri piani. Non è sicuramente un gioco per tutti. Mi ricorda molto un altro gioco che avevo portato che era automation. Ovviamente adesso stiamo giocando tutto come assistito. Dovremmo un attimino poi capire. Stiamo anche nel 1900. Nell'inizio del 1900. Quindi sarà abbastanza complicato poi andando avanti. Inveicolo ancora fare ricerca. Ok. Mappa mondo. Giallo sulla scrivania per andare alla mappa del mondo. Ok. Quindi abbiamo sviluppato. Andiamo qui. Ti permette di gestire e mantenere e creare e distruggere fabbriche filiali. E anche dove si trova il sistema di marketing. E dove si gestisce la produzione e la distribuzione dei veicoli. La mappa del mondo contiene anche mappe di dati visivi per recitare la concorrenza. Questa schermata svolge un ruolo vitale. Gestione la tua azienda. La maggior parte delle funzioni implementate alla mappa del mondo possono essere eseguite anche nel mega menu un computer presente in ufficio. Tuttavia la mappa del mondo offre una migliore rappresentazione visiva. La prima cosa che devi fare è impostare la produzione del nostro veicolo e fai clic sul quartiere generale dovrebbe avere un colore diverso. Infatti è vero. di Milano. Clicca lì. Filiali, fabbriche, marketing. Ok. Fabbriche. Da qui è possibile controllare tutto ciò che riguarda la fabbrica. Questa finestra consente di costruire, riprogettare, chiudere e gestire la fabbrica. Ok. Guardate quante cose ci sono. Chiudi fabbrica. Cioè possiamo assegnare la proprietà di un marchio. Adesso abbiamo Indy Motors. Si possono fare anche lavori per contro terzi volendo. Ok. Abbiamo la produzione. Il cursore di linea di produzione consente di assegnare la linea di produzione al veicolo. Le fabbriche hanno un numero limitato di linea di produzione quindi assegnali saggiamente. E le assegniamo tutte. Facciamo qualità o quantità? No. Devono essere come le auto Apple. Cioè poche ma buone. Ho detto una cazzata comunque va bene. Calcolare. Ok. 5. Assegna. Hai segnato con successo il veicolo alla produzione. Non è necessario rendere il veicolo. È disponibile per la vendita. Chiudere gestione produzione e panoramica. Fai clic sul pulsante su filiale. Ok. Chiudo. E vado su filiali. Perfetto. Funziona come punto di distribuzione tra le fabbriche e le concessionarie. Le concessionarie sono gestite da società di franchising dove i nostri clienti comprono i loro veicoli. Ok. Dobbiamo cliccare adesso su distribuzione e scegliamo di distribuire la nostra berlina full size. Non gli ho dato neanche un nome però è il 1901 Indy Motors Bit. Va bene. Prezzo di vendita. Ok. Allora qua c'è una regola importante. Da notare non dovresti mai applicare un prezzo che sia di 5 volte il reddito pro capite per la città selezionata. Eh sì. Mi piacerebbe saperlo qual è. Vabbè. Prezzo di vendita. Io faccio applica la venda a questa cifra qui. Hai scegliato con successo un prezzo di vendita al tuo veicolo. Ritorno in ufficio. Ok. Andiamo in ufficio. Hai progettato tre componenti principali. Hai progettato un veicolo, assegnato alla produzione e fissato un prezzo di vendita in una filiale. Ora tutto quello che devi fare è terminare il turno. Una volta il turno è stato elaborato si aprirà l'apporto mensile. Hai esaurito tutti i veicoli e i prodotti e aumenta la produzione. Eh sì. Dobbiamo... Ok. Il tutorial è praticamente finito qui. Quindi possiamo andare a dare un'occhiata. Adesso passiamo il turno di un mese. Perfetto. Abbiamo un sommario mensile. Praticamente abbiamo prodotto... Vediamo un attimo. Ne abbiamo prodotte 5, ne abbiamo vendute 4 e ne abbiamo in giacenza ancora una. Non abbiamo però vendite mancate quindi non abbiamo perso vendite per il prezzo o cose varie. Abbiamo speso. Siamo in perdita. Totale entrate, totale spese abbiamo perso mille perché abbiamo mancato una vendita. Quindi praticamente ne abbiamo comunque delle spese abbastanza interessanti. Vedete le vendite. Vendite per città perché poi si può espandere la nostra rete, i ricavi, le licenze. Cioè... fa paura. Chiama risorse umane, lobbisti, risorse umane, sistema di benefit e disabilitato. Riempi la filiale, riempi le fabbriche. Ah, ok. Diamo un'occhiata ai menu che abbiamo intorno. Cambia il brano. Qua possiamo mettere della musica. Ah, ecco. Era tutto fin troppo silenzioso. Vedete? Lo sto esplorando insieme a voi il gioco che mi è stato regalato questa mattina e ho già detto lo registro. File manager. Qua si può salvare la partita. Non so se si presterà bene per una live perché c'è qualche problemino con la gestione della finestra perché lo schermo diventa tutto nero nel momento in cui accedo da un altro monitor. però... Ok. È figo. Non è tradotto tutto. Infatti qua c'è la ribellione di qualcosa. Qua ci sono azioni. Va bene. Il giornale, la cassaforte, abbiamo la pistola. Riempi la camera del terrore e la tua mente comincia a urlare. Sei sicuro di averlo fatto? Il clic del griglietto non si può più tornare indietro. Salvataggio sulla camera... No, no, no. Vabbè, abbiamo capito. Questo possiamo... C'è il tutorial bancario dove ci spiega come fare a ottenere eventualmente dei parestiti. Credo. Infatti ci chiede linea di credito. Possiamo fare linea di credito. Obbligazioni. C'è veramente... c'è veramente di tutto qui. Ci sta spiegando tutto come gestire completamente una banca. Ok? Qua invece abbiamo società pubbliche. Questo. Vorreste fare... Sul lipo? Che cos'è lipo? Pubblico lipo dove si divide la proprietà della vostra azienda in frazioni chiamate azioni. Ok? Lei si mette sul mercato la nostra azienda con azioni. Molto interessante l'orsetto. Invece il tuo 3D preferito. Ami questo assetto di peluche. Va bene. Va bene. Vorrei uscire dall'ufficio. Ok. Abbiamo visto il menu qui. Abbiamo... Che altro? L'ufficio è abbastanza vecchio. Gare automobilistiche. Ci sono anche configurazione. si può andare a partecipare a delle corse. Selezionare un motore. Abbiamo selezionato questo. Ci possiamo mettere anche nel mondo delle corse con una sorta di simulazione molto interessante. E lo showroom invece abbiamo il tutorial dello showroom in un archivio storico dell'azienda dove possiamo mettere le nostre auto. Adesso voglio però fare una cosa torno in ufficio e voglio passare un altro turno perché tecnicamente vorrei andare a vedere prima il dipartimento della ricerca e sviluppo. Vediamo un attimo. Abbiamo contratti sullo chassis. Non ci sono richieste. Ah ok. Possiamo che rispondere a quello. Esternalizzare l'outsourcing. L'outsourcing acquisti veicoli componenti completamente fabbricati da altri produttori. Molto interessante anche questo. No, non mi interessa questo. Voglio tornare in ufficio. Passiamo un altro mese. Ok. Continuiamo a vendere solo 4 auto invece di 5. Ne abbiamo in decenza 2. quindi io vorrei andare sul mondo vedere la fabbrica che ho perché poi possiamo aprire anche altre fabbriche. Al momento no. Abbiamo questa Milano io gli voglio dire fabbrica produzione no. Vorrei andare a toccare la produzione facendo una produzione di 3. Voglio vedere se cambia qualcosa. Voglio vedere però se a tipo a Roma facciamo a Napoli voglio produrre fabbriche posso costruire una fabbrica molto interessante posso andare anche a farle da tutt'altra parte del mondo e espandere il mio dominio ma chi se ne frega distretti tutorial sui distretti ah questa è una delle parti non tradotte possiamo fare dei distretti praticamente creare dei distretti di produzione molto interessante anche questo ma al momento non mi interessa perché voglio tornare qui e vediamo se producendo solo due auto siamo andati in positivo sì infatti vendite 4 produzione 3 stiamo producendo delle ottime auto poi dovremmo tenere ad hoc anche i competitor ma è tutto nuovi competitor London e la Udcar ok quindi molto interessante perché comunque di mese in mese produciamo tot numero di auto ne vendiamo altrettante vendite produzione già senza 1 quindi siamo comunque in positivo quindi stiamo andando anche discretamente bene qua abbiamo 3 milioni di dollari che comunque all'inizio del 1900 deve essere veramente siamo al 1902 adesso qua sotto abbiamo pannello veloce dove vedere le azioni dove vedere le obbligazioni emesse dove vedere le spese stimate le spese una tantum è davvero figo questo cos'è il mega menu questo è il mega menu dove ci consente di gestire tutto direttamente da qui gli autocomandi e così l'ultima cosa che vorrei fare insieme a voi è vedere come funziona la gestione e la progettazione di uno chassis in modalità avanzata appartenente si fa scegliere tutto a mano a caso adesso lo faccio a caso la sospensione a balestra dimensione del telaio guardate quanta roba c'è lo spessore il tipo di sospensione cioè guardate quanti menu ci sono costruisci abbiamo fatto lo chassis voglio progettare il motore il veicolo voglio fare avanzato no luxury il telaio usiamo quello di Indy il motore usiamo questo il cambio usiamo questo vai customize ah ma che bello è spettacolare progetta carrozzeria il tetto si sceglie l'altezza del tetto la curvatura del tetto gli pneumatici e gli accessori pensate che qua siamo solo al 1900 perché nel caso in cui dovessimo voglio provare a fare una cosa tornare indietro andare nell'anno 2020 e vedere che cosa cambia giusto così come test finale del gioco e vedere un po' se la situazione cambia no non voglio iniziare il dottore principale e devo dire molto ma molto ma molto arcaico come menu è il gioco però vediamo lo giochiamo facile comincia ho innominato partita si per favore cancella il tuo gioco ma voglio partire da 2020 classic map ah per favore cancella il gioco esistente elimina elimina eliminiamo la partita massimo poi se ce lo giochiamo in live facciamo così salva ah ma devo farlo qua vabbè prova 2020 inizia vediamo un attimino se cambiano un pochino le cose c'è anche Torino che non avevo filato minimamente prima dovevamo fare Torino facciamo Indy e la società è Indy 2020 questo è un po' strada verde green vediamo se adesso la struttura eh ho selezionato tante cose quindi dobbiamo aspettare vediamo un po' vediamo un attimino quanto ci mette ok eh sì con la tutelazione c'è rifatta dimostrato che non sarebbe incompetente siamo già alla fine no gli dico decido io come andare in pensione vediamo un po' la ricerca e sviluppo come funziona adesso eh sì l'officina è proprio tutta nuova voglio fare un veicolo vediamo un po' vediamo progettiamo uno chassis molto velocemente progettiamo senza guardare i parametri eh proprio la facciamo veloce così progettiamo anche un cambio così e poi progettiamo un veicolo e vediamo un attimino come funziona posso non abbiamo ah no mannaggia motori avanzati elettrico flat panoramica e sono aumentati un pochino qua eh devo dire veicoli chassis vediamo seleziona motore questo progettano me l'ha fatto fare motore assistito seleziona lo chassis metti questo gas è tutto prezzo unitario abbiamo fatto tutta la nostra non c'è un quattro tempi ah guardate quante quanti motori vengono fuori gruppo valvole e niente qua eh però comunque si direi che decisamente decisamente possiamo no qua possiamo sottoscrivere un'offerta per fare ah ok ok no voglio fare esternalizzare voglio comprare un'auto già pronta vediamo un attimo veicolo ah qua possiamo scegliere tutte le società e possiamo comprare un'auto e possiamo produrre un'auto che abbiamo comprato adesso su licenza quindi in teoria dovremmo poter andare qui nella fabbrica e produrre l'auto un'auto di quelle che abbiamo comprato è una cosa che adesso non non si fa immediatamente perché linea di produzione veicolo selezionato eh dovrò aspettare un po' credo comunque niente no sembra veramente veramente ben fatto veramente curato grezzo per quanto riguarda l'interfaccia perché un'interfaccia grafica devo fare una critica così la giocavo negli anni 90 nei manageriali ecco quella è l'unica cosa adesso qua invece del telefono c'è il blackberry e la cassaforte dentro più o meno le stesse cose tutto un po' in chiave un po' più moderna però però sicuramente resta un gioco figo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gear city grazie ancora evil2205 per avermelo regalato veramente un pensiero molto molto apprezzato e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao